Una scoperta archeologica straordinaria a Chieti che potrebbe portare a rivedere la storia della teate preromana. È stata rinvenuta durante gli scavi di riqualificazione in piazza San Giustino una tomba con una ricchissima sepoltura ellenistica risalente al IV-III secolo a.C. e scampata miracolosamente ai vari tagli in profondità effettuata nei secoli scorsi per la costruzione delle cisterne romana e ottocentesca. Inusuale per la forma quasi quadrangolare e per le dimensioni, la tomba è unica nel suo contenuto. Una donna, minuta nelle proporzioni ma robusta per l'ossatura, posta in posizione supina. Doveva essere una donna di rango poiché è accompagnata da un ricchissimo corredo di vasi bronzei e di ceramica. Questi ultimi, di provenienza apula, anche se ancora da studiare con precisione, dimostrerebbero che la Chieti, teate, era già ricca e aveva scambi commerciali di lungo raggio. In altre parole, nella Chieti del IV-III secolo a.C. ci doveva essere una classe dirigente abbiente e benestante che onorava i defunti con corredi ricchi e ricercati. Lo studio dell'inumata e dei manufatti rinvenuti inizierà con l'anno nuovo e gli scavi per la riqualificazione di Piazza San Giustino proseguiranno, poiché, come dichiara la direttrice dei lavori Rosanna Tutteri, una tomba non è mai isolata.